SON'S VIAGNES L'UNCIONE 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 IN APTENENITA L'UNCIONE L'UNCIONE VOREO IN QUALCHE MANIERA EVITARE LE SPACE DELLO PSICOANALISTA HO DETTO QUASI-QUASI, FACIO TUTTO DA SOLO SCRIVO E la fede, la passione, la pelle, l'anima e il cuore Anni e anni di storie, anni e anni di aneddoti, anni e anni soprattutto di condivisione di stati d'animo Con pochi altri cronisti come lui ama definirsi C'è una sintonia istintiva proprio, vorrei dire quasi viscerale come con Piero Torri Io mi ricordo che collezionavo figurine della Panini e le raccoglievo in un diario Che ancora oggi i figli se lo guardano, Piero Torri che è uno di noi Intanto è una dichiarazione d'amore nei confronti della mia città e della mia squadra Perché credo che se sono così, bene o male, brutto o bello, sbagliato o giusto Credo che questo dipenda molto dai romani Perché dai romani e un pochettino di più dai romanisti Mi piaceva l'idea di ripercorrere in qualche maniera la mia vita professionale Dichiarando questo amore In realtà uno scrive per se stesso Scrive per raccontarsi delle cose che magari ad alta voce non c'è il coraggio di dirsi E in qualche maniera si cura Io ho bisogno di essere curato dal fatto di aver messo un punto e di aver girato l'angolo Questo è stato un viaggio anche dentro me stesso Alla ricerca di tornare alla purezza del tifoso vero Finché non ho cominciato a fare il mio mestiere Perché quasi 30 anni presso la romana Di cose che ne sono successe parecchie Andavo allo stadio da ragazzo Io partivo la mattina ai 9 e mezza dalla casa Prendevo il treno a Via La Spezia Se arrivava ai 10 e mezza Ai 11 se entrava allo stadio la partita era ai 2 e mezza Infinita con i panini che aveva pizzaiola Che aveva fintato le mamme L'oratorio è un po' un'istituzione Se lo ascolto tutti i giorni sempre ben volentieri Penso che sia ancora uno dei pochi della Pecchia Guardia Un giornalista serio, un professionista Negli anni 80, negli anni 70 c'era un calcio se vogliamo più familiare L'ingegner Viola che è stato il mio presidente Aveva un rapporto con i calciatori assolutamente vero, genuino Magari ci litigava poi con Bruno Conti per esempio Ogni volta che c'era il nuovo del contratto era una litigata pesantissima, durissima Però poi i calciatori si mettevano quella maglia Ed era un tutt'uno con la rolla Si vede che è una persona che se ne intende di calcio E quindi è piacere starlo a sentire C'è un capitolo, l'edificato è venuta Ho tentato tutti i trucchi del mondo Mi sono travestito, ho cercato di entrare ma non c'è stato niente da fare A un certo punto ho chiesto all'austriaco preciso, al Fed Maresciallo La dose è come, boff, una sigaretta Sono uscito e l'ho beccato fuori Avevano appena perso una finale di Coppa dei Campioni Aldair era assolutamente sereno e tranquillo Quando uno lo intervistava in realtà era il Guardiolo che lo intervistava a te A un certo punto mi ha chiesto Mi senti la ricetta della carbonara? Io faccio fatica a cucinare due volte che mi sono Per cui c'è una ricetta che prima mangia la carbonara Io amo la Roma La Roma, io quando sto là sento grazie a Roma E poi ci sono cinque personaggi e un gruppo di tifosi che ho amato più di chiunque altro Ma non solo da giornalista ma anche da semplice E lo dico come un grande comprimento tifoso della Roma Vince Lido, che è stato l'allenatore che ci ha regalato un sogno Agostino Di Bartolomei, che è stato il mio capitano Poi Francesco Rocca Francesco Totti, perché io un altro così non lo vedrò più Come noi andavamo a campo con Agostino Di Bartolomei Le generazioni in questi ultimi venti e passanti Sono andate in campo con Francesco È stata la sua grande forza nei confronti di tutta la tifoseria romanista Che in realtà si è sentita Francesco Dentro il corpo di Francesco c'era ognuno da noi E poi Bruno Gotti che è un altro giocatore che ho amato moltissimo E l'ultimo capitolo è dedicato a un gruppo al comando tra Curva Sud Perché è stato il gruppo che ho sentito, percepito, visto Più vero, più genuino, più spontaneo E più sinceramente innamorato della Roma Ci sono anch'io lì Quel giorno, ottobre dell'Ottata 3 Con questo striscione straordinario Non so quello che pagherei per tornare a sentirmi Quello vero quel giorno Qui in Curva Sud Il tifoso è anche un po' affanzioso E anche un po' buzzone Ho sempre tentato di Mettere insieme a due cose Ma non è stato semplicissimo Però Te mostro il link Meccanella del Viga In tutti gli Stati d'Italia Però ti dico a me che se ne frete Grazie Grazie Grazie